Per me questa esperienza che si conclude, conclude anche un tratto della mia vita. Sala Filomena Delicastelli della Regione Pescara troppo piccola per l'ultima conferenza stampa da Presidente della Regione di Luciano D'Alfonso che ha elencato gli obiettivi raggiunti in 50 mesi di legislatura. Partendo dal Masterplan Abruzzo, D'Alfonso ha voluto porre l'accento sui risultati ottenuti grazie all'assegnazione e stanziamento di risorse e fondi. Di sicuro continuo a lavorare per gli abruzzesi che mi hanno sempre consentito di trasformare le idee in fatti. Molte idee sono diventate fatti, per quelle che sono rimaste sul piano del progetto continuerò a lavorare con la mia determinazione senza mai dare posto e luogo alla paura. Un grande risultato, io ho determinato, che con la mia presenza e la mia attività decisionale la paura è stata tenuta fuori dalla porta. Anche quando l'attività amministrativa è stata giuridicizzata, mai mi sono inchinato alla paura. Questo dico agli abruzzesi che farò, per questo ringrazio gli abruzzesi poiché la loro fiducia è stata la mia forza contro la paura. Non è mancata poi anche l'autocritica su quello che si poteva fare, non è stato fatto come per le liste d'attesa nella sanità. Siamo stati la prima regione ad uscire dal commissariamento, abbiamo innalzato la quantificazione della qualità dei nostri LEA ad un livello apprezzato da tutti, però c'è il tema delle liste d'attesa e quello è un punto, è una materia sulla quale dobbiamo studiare e organizzare nuovo prodotto e nuova organizzazione. Così come sono dispiaciuto, per esempio, di non avere potuto quantificare i metri quadrati di territorio libero attrezzato per insediare nuove imprese. Io avrei voluto quantificare tutte le aree libere, metro per metro, da mandare alle confindustria di Bruxelles, di Tokyo, di New York e fare in modo che chi conosce quelle aree poi possa decidere con tutte le convenienze dove investire, quando e quanto investire. Però quello che devo dire è che in questi 50 mesi abbiamo lavorato tanto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si poteva fare di più, sì, però devo anche dire che accetto il confronto con qualsiasi alta legislatura precedente. Infine D'Alfonso, sollecitato dai giornalisti, ha parlato delle prossime elezioni regionali e di quello che potrebbe essere l'identikit del candidato presidente del centro-sinistra, ovvero il vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini. Io penso ad un'età beta che ha capacità di fare coalizione, che è autorevole, che non ha nemici. Un'età beta che ha cultura di governo, che conosce il valore, la densità e la delicatezza della decisione pubblica. Una persona con una storia riconoscibile, una persona che per esempio sa il linguaggio della politica, è il linguaggio dell'amministrazione ed il linguaggio delle istituzioni. Come si individua questa persona? Con le primarie? Come dice lo statuto del partito principale di una coalizione possibile di centro-sinistra? E come anche a me piace? Oppure si sceglie attraverso il conferimento di saggi di una comunità politica che prescindendo dalle primarie, per oggettività di merito, affida questo ruolo al migliore che ci può essere in Abruzzo, ma non solo dal punto di vista territoriale e regionale.